Filippo Turetta Una scuola media di Pozzuolo del Friuli ha incontrato i genitori di Giulio Regeni, donando disegni e temi sulle tematiche di verità e giustizia. In suo ricordo è stata posta una panchina gialla all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico. Ben ritrovati gentili telespettatori al telegiornale del Nordeste, iniziamo subito con le nostre notizie. Le ricerche di Luciano Redivo, l'anziano di 78 anni residente a Roveredo in Piano, continuano senza sosta da tre giorni. L'ultima volta è stato visto domenica 12 maggio e da allora si sono perse le sue tracce. Questa mattina le operazioni di ricerca si sono concentrate su Polcenigo, dove è stata trovata la sua bicicletta grigia nei pressi del rio Fontaniva, il mezzo con cui si era allontanato dalla sua abitazione. Le ricerche di Luciano Redivo coinvolgono diverse unità delle forze dell'ordine, tra cui i vigili del fuoco che hanno dispiegato anche un elicottero per solvorare l'area del fiume Livenza. L'elicottero ha effettuato diversi passaggi per controllare la zona dall'alto e cercare di individuare qualsiasi traccia che possa portare all'anziano scomparso. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Redivo è stato avvissato a Polcenigo nella giornata di lunedì. Intorno alle 19.30 è stato visto mentre si fermava a parlare con un carrozzere del luogo, che in un secondo momento ha riconosciuto l'uomo come Luciano Redivo, ha subito segnalato l'avvistamento alle autorità. Tuttavia, dopo quell'incontro, dell'anziano non si hanno più notizie. Proseguiamo. Tra le 19.00 e le ore 20.30 circa, la stazione di Udine è stata attivata dalla Sores a seguito dell'allarme dato dal gestore del rifugio Pian dei Ciclamini. L'allarme è stato lanciato quando un escursionista classe 1995 di Varese, che stava percorrendo il Cammino Celeste, non è arrivato al rifugio come previsto per le ore 17.00. Il gestore, preoccupato per la sicurezza del giovane, ha deciso di contattare i soccorsi. Considerate le esperienze precedenti di incidenti e decessi lungo quella specifica tappa del percorso. Quattro soccorritori sono stati dunque inviati al campo base, dove sono saliti a bordo di un elicottero della protezione civile. Il problema del ritrovamento del giovane risiedeva nel fatto che era atteso l'arrivo di un'imminente perturbazione prevista per il giorno seguente. Comunque, dopo un'attenta perlustrazione dall'alto, l'escursionista è stato ritrovato sano e salvo all'interno del rifugio sul Gran Monte. Aveva deciso, infatti, di modificare i suoi piani e fermarsi a dormire lì insieme a un altro percorritore del Cammino Celeste, anche egli in solitaria. I due avevano tentato di avvisare il gestore del rifugio della loro decisione, ma l'assenza di rete telefonica nella zona non ha permesso loro di comunicare. Questo episodio sottolinea l'importanza di una buona organizzazione e della prontezza dei soccorsi in zone montane, dove la comunicazione può essere difficile e pericoli molteplici. È comunque essenziale che gli escursionisti siano sempre preparati per eventuali cambiamenti nei loro piani e che informino i responsabili dei rifugi il prima possibile, utilizzando tutti i mezzi disponibili e a loro disposizione. Andiamo avanti. Nuova allerta meteo arancione, invece, emessa dal Centro Funzionale Decentrato del Friuli Venezia Giulia. La comunicazione ufficiale di Ramata oggi prevede una serie di eventi meteorologici avversi che potrebbero avere un impatto significativo su diverse aree della regione. L'allerta è valida dalla mezzanotte del 16 maggio fino alle 12 del 17 maggio e si basa su previsioni dettagliate che indicano l'arrivo di una depressione atlantica. Questa depressione, avvicinandosi da ovest, porterà con sé correnti meridionali umide e instabili, determinando condizioni atmosferiche estremamente variabili e potenzialmente pericolose. Secondo il bollettino meteo del Centro Funzionale Decentrato, la regione Friuli Venezia Giulia sarà interessata da piogge intense e temporali per tutta la giornata del 16 maggio. Le precipitazioni, invece, inizieranno durante la notte e proseguiranno al mattino con particolare intensità su alcune zone specifiche come la pianura pordenonese, udinese e le prealpi carniche. Queste aree potrebbero vedere piogge stazionarie e temporalesche con fenomeni particolarmente intensi. Nel corso della giornata, invece, le piogge potrebbero attenuarsi leggermente, diventando più intermittenti, ma si prevede una nuova intensificazione dal tardo pomeriggio fino alla notte, con la possibilità di temporali forti, soprattutto su pianura, costa e prealpi. Andiamo avanti. La situazione nelle campagne veneziane, invece, è molto difficile. Il mese di maggio sta confermando le bizzarrie del meteo, mettendo in serie difficoltà tutti gli agricoltori. In particolare, i cerealicoltori manifestano la loro preoccupazione con queste parole. Nel porto gruarese si salvano solo i terreni più vicini al mare, in cui la componente sabbiosa del terreno consente un maggiore drenaggio dell'acqua, spiega Andrea Pegoraro, presidente di Coldiretti Porto Gruaro. Le eccessive piogge di queste settimane, infatti, non consentono di accedere ai terreni per le lavorazioni previste in questo periodo. Il mais, ad esempio, è stato seminato solo per un 50%. Non riusciamo a preparare la terra in vista delle semine della soia, mentre il frumento è fiorito sotto la pioggia. Speriamo che vi sia presto una ripresa dell'alta pressione. Uno stato generale che colpisce tutti i settori agricoli, andando ad aggravare la situazione economica di tutte le imprese agricole. A tal riguardo, Coldiretti Venezia segnala la difficoltà soprattutto degli apicoltori. Le continue piogge hanno compromesso la fioritura di acacia, con conseguente danno sulla varietà di miele più richiesta dai consumatori. Da un alveare si ottiene una produzione di miele di acacia che oscilla dai 30 ai 40 kg. Quest'anno, invece, a fatica ne abbiamo ottenuti soltanto 8. Afferma preoccupato questo Emanuele Marchesan, apicoltore professionista di Caorle. È innegabile che il meteo abbia sempre condizionato il lavoro agricolo, commenta Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia. Ma ora il clima si sta tropicalizzando, mettendo alla prova tutti i comparti agricoli, alternando eventi estremi tra nubi fragi, grandinate e tempeste di vento a periodi di siccità. Questo inizio 2024, intanto, si è presentato come l'anno più caldo di sempre, con una temperatura di 2,04 gradi superiore alla media storica, secondo l'analisi Coldiretti sui dati ISAC-CNR, cui ha fatto seguito un aprile dove la colonina di Mercurio è crollata a livelli invernali. L'omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stato dichiarato come un femminicidio premeditato e crudele. Chiusa l'inchiesta e Filippo Turetta sarà sottoposto a processo. Sentiamo il servizio. L'inchiesta riguardante il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin è giunta a una conclusione. La procura di Venezia si prepara a chiedere ufficialmente il processo per Filippo Turetta. La convinzione della procura sulla premeditazione dell'omicidio è forte, tanto che questa aggravante è stata inclusa nella chiusura delle indagini contro il giovane, in carcere a Verona dal novembre scorso per l'uccisione della sua ex fidanzata e in seguito alla fuga in Germania per una settimana. Il capo di imputazione formulato dalla procura nei confronti di Turetta è particolarmente pesante. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà e ferratezza, sequestro di persona, porto d'armi continuato e occultamento di cadavere. Un quadro accusatorio estremamente severo, che rispecchia la brutalità e la violenza del delitto. La fuga di Turetta ha inoltre aggiunto un ulteriore elemento di drammaticità alla vicenda, già segnata da una violenza inaudita. Tra le prove che sostengono la premeditazione emergono testimonianze, intercettazioni e analisi forensi, che delineano un quadro chiaro dell'intenzione di Turetta. In particolare sono la crudeltà e le ferratezza con cui è stato commesso l'omicidio, gli elementi chiave che hanno spinto la procura a formulare un'accusa così grave. La chiusura delle indagini ha suscitato reazioni intense sia da parte della famiglia di Giulia Cecchettin che della comunità locale. I familiari della vittima hanno espresso un misto di sollievo per la conclusione delle indagini e di dolore per la perdita insensata di una giovane vita. Il caso di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin ha però anche importanti implicazioni legali e sociali. Da un lato il processo contribuirà a delineare i confini giuridici della premeditazione e delle aggravanti in caso di femminicidio. Dall'altro invece solleverà nuovamente la questione della protezione delle donne e delle misure preventive necessarie per evitare simili tragedie in futuro. A Trieste invece un 25enne è stato arrestato per violenze, minacce ed evasione dagli arresti domiciliari. La polizia locale è intervenuta lo scorso 6 maggio in Largo Bonifacio a Trieste per fermare il giovane in evidente stato di agitazione. All'uomo sono stati contestati diversi reati, tra questi anche una querela da parte dell'ex fidanzata vittima di atti persecutori. Vediamo. La polizia ha arrestato un giovane di 25 anni per violenza, minaccia ed evasione dagli arresti domiciliari. È accaduto lunedì 6 maggio verso mezzogiorno in Largo Bonifacio a Trieste. Una pattuglia del nucleo Interventi Speciali è stata raggiunta da un dipendente di un pubblico esercizio della zona che visibilmente spaventato ha indicato un giovane piuttosto agitato mentre lanciava le sedie dei Deors e prendeva a pugni e calci le vetrine. Gli agenti sono quindi intervenuti riuscendo a calmarlo, ad allontanarlo e ad identificarlo. Pare che il giovane non fosse nuovo a queste esternazioni che riproponeva quasi quotidianamente, forse per una delusione amorosa. Il ragazzo è comunque ricomparso mezz'ora dopo, seduto al tavolino di un locale vicino per osservare la scena. Invitato nuovamente ad allontanarsi, assunto un atteggiamento provocatorio e violento, tant'è che è stato necessario l'intervento di altri agenti. Alla caserma cui è stato accompagnato sono emersi numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Inoltre, pochi giorni prima, era stato arrestato per poi essere scarcerato con la misura cautelare. Venerdì 10 maggio, il personale del Nucleo Interventi Speciali lo ha rintracciato e fermato nuovamente nei pressi di Largo Bonifacio. Era evaso dagli arresti domiciliari. Quindi è stato nuovamente arrestato per il reato di evasione e condotto ancora una volta in carcere. Ulteriori indagini hanno permesso di rintracciare l'ex fidanzata, effettivamente vittima di atti persecutori e che ha querelato il giovane. Infatti, qualche ora prima dell'ultimo arresto, la vittima era stata costretta a far intervenire un'altra forza di polizia presso la propria abitazione, nei pressi della quale il ragazzo l'aveva raggiunta per minacciarla. In quell'occasione però, prima dell'arrivo degli agenti, l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. A Gorizia invece un ulteriore arresto per truffa. Un 22enne campano è stato arrestato per aver truffato una coppia di anziani. L'uomo era riuscito a farsi consegnare gioielli per un valore di 10.000 euro circa con la scusa che il figlio era stato arrestato. Vediamo il servizio. La polizia di Gorizia ha arrestato un 22enne residente a Napoli per una truffa messa a segno nel centro del capoluogo Isontino e ha recuperato gioielli per quasi 10.000 euro. Il 15 aprile scorso alla questura erano stati segnalati alcuni tentativi di truffa commessi da alcuni soggetti che avevano telefonato a diverse persone fingendosi degli avvocati e informando le vittime di incidenti in realtà mai avvenuti causati da un loro familiare e richiedendo dei soldi per ottenere la sua immediata liberazione dall'arresto. Le indagini della squadra mobile hanno condotto ad un sospettato residente in città che nelle ore precedenti era stato controllato dal personale della polizia ferroviaria e dalla volante nella zona della stazione senza fornire validi motivi in ordine alla propria presenza nel capoluogo Isontino. Il 22enne Campano è stato pedinato è stato visto entrare in un edificio in via dell'ospedale e poi uscirne tenendo in mano un sacchetto. Fermato, il sospettato è stato perquisito. Nel sacchetto c'erano gioielli in oro per un peso di circa 150 grammi per un valore di circa 10.000 euro. Gli agenti hanno sentito le vittime della truffa una coppia di anziani residenti che hanno confermato di aver dato i gioielli perché convinti da una telefonata con cui aveva richiesto di consegnargli per ottenere la liberazione del figlio dagli arresti in realtà mai avvenuti. Il 22enne Campano è stato arrestato e portato in carcere a Gorizia. La questura ricorda in particolare agli anziani che vivono da soli di interrompere la comunicazione se si riceve una telefonata in cui vengono richieste somme di denaro per un parente arrestato o per delle cure mediche. Di non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità di evitare di tenere in casa grosse somme di denaro ed oggetti di grande valore di contattare le forze dell'ordine ogni qualvolta si sente la necessità di essere aiutati. A Gorizia e Cormons quattro ditte edili invece sono state sospese per carenza nella sicurezza. Sanzioni per 120.000 euro a aziende irregolari cinque sul totale di quelle controllate. Vediamo. Irregolarità in cinque imprese edili a Gorizia e Cormons è il risultato delle attività di contrasto del lavoro nero e irregolare e per la sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore d'Ile condotte dai carbinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia e del NIL di Gorizia con i militari della compagnia di Gorizia e Gradisca di Sonso che hanno ispezionato diverse aziende della zona. Tutti in regola i 22 lavoratori controllati di cui 12 extra Unione Europea. Sei invece i titolari d'azienda denunciati per quanto riguarda l'osservanza della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Le sanzioni elevate ammontano a 120.000 euro le violazioni penali riguardo l'utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi l'omessa installazione di parapetti impianti elettrici di cantiere non a norma attrezzature non adeguate alle lavorazioni documentazione di cantiere come piano operativo di sicurezza e piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio non aggiornati. In particolare a Gorizia sono risultate irregolari e sospese tre ditte tutte operanti in un medesimo cantiere insieme a una quarta risultata in regola. Sono state sanzionate per 65.000 euro. A Cormons individuati irregolarità in due imprese e a capo di un coordinatore per la sicurezza. 8 le violazioni per complessivi 55.000 euro di ammende. 1 il provvedimento di sospensione dall'attività. E ora, gentili telespettatori, una breve pausa pubblicitaria. Ci rivediamo fra poco. Ben ritrovati, gentili telespettatori. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il 15 maggio verrà inaugurato a San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, il nuovo stabilimento di Tecno System SPA Società Benefit, azienda leader in Italia nel settore dei componenti per impianti HVAC, nonché nella progettazione e produzione di accessori e componenti per il condizionamento, il ricambio dell'aria, la ventilazione e il fotovoltaico. Il nuovo polo produttivo della società Benefit, che ha concluso l'esercizio 2023 con un fatturato di 54 milioni di euro in crescita del 34% negli ultimi due anni e che conta su un organico di oltre 211 dipendenti, darà lavoro a altri 80 professionisti, che opereranno in nuove linee di produzione con tecnologia 4.0. A commentare con soddisfazione la nascita del nuovo polo è Giorgio Rigoni, nonché presidente dell'azienda. Questo secondo polo produttivo rappresenta un importante traguardo nella crescita tecnologica di Tecno System, da sempre orientata all'innovazione e all'introduzione di impianti di ultimissima generazione, per realizzare un modello di fabbrica intelligente. Grazie all'internalizzazione di nuovi macchinari e tecnologie garantiremo ai nostri clienti un servizio di eccellenza, soluzioni tecniche all'avanguardia e una produzione sempre più snella e veloce. Esteso su una superficie di 30.000 metri quadri, lo stabilimento si avvarrà di tecnologie virtuose progettate nel pieno rispetto dell'ecosistema, che porteranno ad una significativa riduzione stimata delle emissioni di CO2 entro la fine del 2025. Andiamo avanti. Gli studenti di Pozzuolo del Friuli invece incontrano i genitori di Giulio Regeni, donando disegni e temi sui temi di verità e giustizia. È stata inaugurata anche una panchina gialla in memoria del giovane. Vediamo. Un'area dedicata alla legalità è ciò che una scuola media di Pozzuolo del Friuli ha creato. Questa mattina alle ore 10.30 all'auditorio IPA San Sabatini di Pozzuolo del Friuli si è svolto un evento toccante e significativo. Gli studenti di quinta elementare e delle medie dell'istituto comprensivo Don Pierluigi di Piazza hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore brutalmente assassinato in Egitto nel 2016. Questo incontro ha segnato il culmine di un percorso didattico sui temi di verità e giustizia, portato avanti dagli studenti con i propri insegnanti. Precisamente sia all'interno che all'esterno dell'istituto è stata collocata una panchina gialla in memoria di Giulio Regeni. Sul palco un mosaico con il nome di Giulio e l'albero della legalità, realizzato al termine di un percorso didattico. Le foglie dell'albero contenevano i pensieri dei ragazzi di quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Tra queste frasi significative come «giallo come raggio di sole, oscurato dall'ingiustizia» e «pensare al futuro era una cosa da Giulio». Hanno mostrato l'alta consapevolezza e la sensibilità degli studenti. La dirigente scolastica Elena Venturini ha commentato con orgoglio il lavoro svolto dagli studenti, affermando che il livello di consapevolezza è alto. Conoscono la storia e ci hanno sorpresi con la loro capacità e sensibilità di cogliere l'essenza della questione e dei problemi. Un riconoscimento che sottolinea l'importanza dell'educazione e della formazione nella costruzione di una società più giusta e consapevole. Gli studenti, al termine del loro cammino educativo, hanno donato ai coniugi reggeni i frutti del loro lavoro, disegni, frasi e temi. In cambio, hanno ricevuto la testimonianza intensa e commovente di Paola e Claudio, accompagnati dal loro avvocato Alessandra Ballerini. Sicurezza informatica e ricerca invece vanno avanti e questo vale per l'Università di Udine che vince un bando PNRR da un milione e mezzo di euro per il progetto CoverArt, che servirà per migliorare la sicurezza informatica contro le minacce di cyber. Vediamo. Prevenire e contrastare attacchi informatici, monitorare possibili vulnerabilità della rete e dei dispositivi. Questo è il fulcro del progetto di ricerca nazionale Covert, coordinato dall'Università di Udine, che ha recentemente ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo di euro dal Piano Nazionale di Riprese Resilienza. La ricerca è guidata da Gianluca Foresti, docente di Cyber Security e Artificial Vision presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, nonché direttore del Master in Intelligence and Emerging Technologies. Il progetto è sviluppato in collaborazione con altri cinque Atenei, Politecnico di Milano, Università di Perugia, Università di Trento, Università di Verona e Lean Campus University. Le attività di ricerca del progetto Covert si concentreranno principalmente sul settore Attacks and Defenses della sicurezza informatica. Il progetto intende analizzare le tecnologie emergenti per il rilevamento di attacchi informatici alle reti dati, che stanno diventando sempre più sofisticati ed aggressivi. Gli obiettivi correlati riguarderanno quattro macro aree principali, che avranno l'obiettivo di identificare e prevenire, mediante hardware e software appositi, le varie tipologie di attacchi informatici. Il gruppo di ricerca dell'Università di Udine, spiega il professor Foresti, si focalizzerà sullo studio e sullo sviluppo di algoritmi di machine and deep learning di tipo non supervisionato, in grado di monitorare gli eventi anomali all'interno di reti complesse. I risultati del progetto potranno essere direttamente utilizzati per aumentare le difese da attacchi informatici di aziende ed enti pubblici del territorio. Il progetto In Search of Evidence of Stealth Cyber Threats si inserisce nel bando a cascata del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca, su attività di ricerca nell'ambito del Security Rights in Cyberspace. Nel 2023, invece, è stata avviata una serie di attività sul fiume Tagliamento a Pontaiba di Pinsano e nel Castello di Ragonia, il progetto a Prodi, curato da Molino Rosencrantz, selezionato per il Bando Storico Etnografico Studi e Ricerche 2022 della Regione Autonoma a Friuli Venezia Giulia, il cui sostegno è fondamentale e premia l'impegno svolto. Il progetto, dopo la realizzazione dell'omonimo audiolibro e la diffusione di CD in biblioteche e musei del territorio, ora si dedica alla lettura scenica tratta dall'audiolibro, per narrare le storie di passaggi sul tagliamento attraverso il corso dei secoli. Vicende di traghetti, barcaioli, ponti, passaggi di uomini potenti ed illustri. Quello che si potrà ascoltare domenica 19 maggio a Spilimbergo e giovedì 6 giugno a Villanova di San Daniele del Friuli è un racconto a più voci di genti e civiltà attorno al fiume, che segue un percorso storico attraverso i secoli e racconta di passaggi di genti attraverso il tagliamento. Di come questo via vai abbia influenzato la storia, l'economia e la cultura locale. Gli appuntamenti, divisi in due giornate di incontri, esposizioni, laboratori, musica, degustazioni e visite guidate, sono i seguenti. Domenica 19 maggio alle ore 19 a Belvedere di Palazzo di Sopra a Spilimbergo. In caso di maltempo si terrà in sala consigliare del palazzo. Giovedì 6 giugno invece alle ore 20 e 15 presso il Prato adiacente la chiesetta di San Giacomo a Villanova di San Daniele e in caso di maltempo al Teatro Splendor a San Daniele. Pordenone invece diventa capitale della caricatura grazie al PAF. È l'ora di Faces. Caricaturisti da tutto il mondo sono in arrivo al PAF per il primo festival della caricatura in Italia. Vediamo. È conto alla rovescia per l'apertura di Faces, il festival internazionale della caricatura che accende riflettori su quest'arte affascinante ed emozionante. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio Pordenone si trasforma nella capitale della caricatura mondiale. Non è un caso che il luogo individuato per ospitare questo straordinario evento sia il PAF, l'International Museum of Comic Art. Circa 50 caricaturisti da tutto il mondo hanno scelto Pordenone come luogo di contatto per la propria crescita professionale ed artistica, nonché come luogo per formarsi con i più grandi artisti internazionali. Parliamo di Thomas Fluerty dal Sud Dakota, Maria Picasso e Piquet dalla Spagna, Daniel Stiglitz dalla Germania e Riccardo Mazzoli dall'Italia. Diversi caricaturisti sono attesi anche da Polonia, Georgia, Paesi Bassi, Spagna, Grecia, Francia, Svizzera, Austria e ovviamente Italia. Faces d'appuntamento a tutti domenica 19 maggio con una serie di attività rivolte al pubblico, tra sessioni di ritratto maggio che si terranno al mattino dalle 11.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17. La prenotazione per questo evento è obbligatoria su www.paf.it. Poi la mostra temporanea che vede la realizzazione di opere legate al tema della prima edizione di Faces, Very Italian, Beyond Stereotypes. Questa sarà inoltre visibile alla cerimonia di chiusura del festival. Poi il premio alla carriera Faces che costituisce anche il momento in cui si celebrano i più importanti nomi di oggi e di sempre della caricatura mondiale. E per finire l'happy hour con DJ set e concerto di Andrea Chiarini inserito nella rassegna PAF Sonic. Le scuole del Pordenonese invece si sono scontrate oggi con la competizione giocafipe di Pesistica. Vediamo il servizio. Questa mattina al Palazzetto dello Sport le scuole del Pordenonese si sono riunite per la competizione a livello regionale del Giocafipe, garra che racchiude i principi del sollevamento pesi. Sono dei giochi preparati dalla Federazione Italiana Pesistica che servono ai giovani, soprattutto ai giovani delle scuole medie e delle prime superiori per la preparazione fisica per tutte quante le attività sportive. Sono stati organizzati di modo che ci siano più modi di lavorare con i ragazzi, di modo che non sia il solito sollevamento pesi, strappo, slancio come si faceva una volta. No, sono stati aggiunti il tiro della fune, il tiro della palla, praticamente tutte le attività che servono a preparare fisicamente i ragazzi, non solo per la pesistica, se poi vogliono rimanere, questo è un bene, ma se vogliono frequentare altri sport, hanno già una preparazione di base pronta ed efficiente. vengo dal centro storico, ho appena partecipato alla gara di pesistica regionale, sono molto contento del mio risultato, anche della mia squadra, spero di essere arrivato più in alto possibile. Sono Matteo e sono della scuola Pierpaolo Pasolini, questa esperienza ci ha legato molto tra amici, ma sono riuscito anche a conoscere nuove persone, siamo riusciti a fare un bel risultato come scuola ed è stato molto bello perché ci siamo divertiti. Siamo qui a presentare la prima edizione in nazionale del Gioca Fipe, che è il nuovo circuito dedicato ai ragazzi della Federazione Italiana Pesistica, è un circuito innovativo e noi come Friuli Venezia Giulia, in particolare come Pordenone, siamo i primi in Italia a presentarlo nelle scuole e a portarlo in gara e l'evento sta riuscendo alla grande, quindi siamo felicissimi dei risultati e di quello che sta succedendo, i ragazzi si stanno divertendo, i professori hanno accolto questa novità con entusiasmo e quindi speriamo in un futuro che questo progetto possa continuare e portare grossi risultati anche a livello tecnico e sportivo. E ora gentili telespettatori, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio ora con il meteo e ci vediamo domani alle ore 19. Giorno d'Arpa, Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni. Giovedì una depressione atlantica determinerà flusso di aria umida e mite nei bassi strati portando a marcata instabilità sulla regione. Andiamo nel dettaglio. Giovedì 16, previsione incerta. Nella notte al mattino possibili piogge stazionarie, intense o molto intense, specie su pianure prealpi Le piogge temporalesche continueranno più attenuate e intermittenti durante il corso della giornata ma saranno in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio fino alla notte quando saranno possibili i temporali localmente anche forti, specie su pianura, costa e prealpi. Le temperature, le minime sulla pianura tra 12 e 15, sulla costa tra 14 e 16 gradi le massime sulla pianura tra 18 e 21, sulla costa tra 18 e 20 gradi Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 12, a 2000 metri 6 gradi Venerdì 17, cielo nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura, poco nuvoloso sulla costa In giornata rovesci e temporali sparsi, più probabili tra le prealpi e la pianura nel pomeriggio Le piogge saranno quindi in genere moderate e localmente abbondanti Le temperature, le minime sulla pianura tra 11 e 15, sulla costa tra 14 e 17 gradi Le massime sulla pianura tra 19 e 22, sulla costa tra 18 e 20 gradi Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 11, a 2000 metri 5 gradi Grazie, a domani!